Solitamente sentiamo frasi del tipo non possiamo rimanere nella stessa situazione perché non possiamo crescere o meglio non possiamo crescere nello stesso ambiente in cui ci siamo ammalati questa è una solita frase che noi sentiamo dire attraverso magari nei social o viene divulgata da parte dei media da parte della nostra società ma è un concetto davvero che porta a distaccarci da quello che è proprio il collegamento con noi stessi con la nostra vera essenza e se noi siamo giunti qui in una determinata situazione è perché dentro di noi ci sono tutte le capacità, tutte le potenzialità, tutte le risorse per poter affrontare quella determinata situazione ma quello che ci mancano, proprio quello che non ci trasmettono sono degli strumenti pratici per radicare questi concetti nel corpo e per poter fare questo cambiamento di paradigma che viene proprio all'interno del nostro organismo all'interno del nostro organismo risentono proprio delle memorie che vengono chiamate memorie ancestrali e queste spesso, purtroppo per condizionamenti legati magari a quella che è stata in un passato di guerra, una società comunque dove prevalcano le emozioni di paura e di terrore queste portano proprio a sconnetterci da quella che è la nostra vera essenza se noi siamo qui e in una determinata situazione è perché proprio attraverso quelle persone che la vita ci porta, ci conduce noi possiamo evolvere senza di loro noi non potremo essere nessuno eggin tre uno questo non potremo essere nessuno è questa untuk sempre perché non potremo avere simultanamente per user Pred揚 ere seg billion Grazie a tutti.